Amici sportivi, amici fantallenatori, buongiorno, ben trovati dal vostro veterano del fantacalcio, video che si appunto riguardano il prossimo campionato, già per analizzare quello che è il prossimo fantacalcio, ma video che già ci interessano tantissimo, perché in questa fase è utile non solo concludere al meglio la stagione in corso, ma pianificare anche quella successiva, per questo motivo facciamo dei focus importanti. Quindi sulle squadre del fantacalcio andiamo un po' in continuità con quello che è un po' il filo rosso, il fil rouge che abbiamo avuto in questi mesi, cioè quello di avere una pianificazione ottimale, di capire bene come sfruttare al meglio porta e difesa, soprattutto centrocampo, e capire se effettivamente è utile spendere così tanto per l'attacco, oppure è un po' più utile rivoluzionare il nostro modo di spendere, anche appunto a favore di altre reparti. Abbiamo fatto nei mesi passati tanti video di approfondimento, nei giorni scorsi li abbiamo chiamato il deserto del gol, un video davvero interessante su quello che è l'andamento dei gol in Serie A e di come appunto sfruttare al meglio altri fattori bonus per il fantacalcio. Oggi anche su richiesta di tanti di voi andiamo ad analizzare le squadre da fantacalcio e capire come si sono mossi, soprattutto anche i reparti, per capire se effettivamente questo andamento che il veterano ha sottolineato nel corso dei mesi e degli anni ha appunto anche logiche sottostante effettivamente veritiere anche a livello statistico. Cosa ho fatto dunque? Ho recuperato i giocatori dell'Atalanta, quelli che hanno avuto più o meno di 13 presenze in campionato, e abbiamo analizzato la fanta media voto, i gol totali, gli assist totali e appunto i prezzi che avevano iniziato, per capire un po' quale è stato il ragionamento sulle varie squadre. È un lavoro un po' lungo, è un lavoro non semplice, è un lavoro che vi potrà essere utile nel corso del tempo, per questo motivo vi chiedo un grande supporto a livello di appunto like e condivisione del canale per cercare di darci il massimo di supporto appunto a livello di condivisione e anche a livello di like. Partiamo dunque, fanta media voto. Quali sono i giocatori dell'Atalanta migliori per fanta media voto? Chiaramente il nostro obiettivo è di avere una fanta media voto complessiva maggiore dei nostri avversari di fanta calcio, quindi andiamo ad analizzare proprio il primo punto, cioè come i giocatori si sono mossi a livello di fanta media voto. Ripeto, i giocatori con almeno 13 presenze al loro attivo. E all'Atalanta abbiamo primo posto Lukman, 7.74 su fanta media voto. Secondo posto Kovminers, 7.52, terzo posto Scamacca, 7.41, poi Schardel Ketteler con un 7.36, poi Miranciuk, 7.00 pieno, Pasalic 6.96, Ederson 6.78, Holm 6.45, Zappacost 6.2 e Kolasinac 6.17. Se vogliamo fare un riepilogo di questa prima sessione di la fanta media voto scopriamo però, attenzione, che sui 10 giocatori non la maggior parte, non la totalità, ma solamente due giocatori sono due attaccanti. Per il resto abbiamo tre difensori, come detto Holm, Zappacost e Kolasinac pur nelle ultime posizioni, quindi ottavo, non le decimo, ma ben 5 centrocampisti. Secondo Kovminers, il quarto Schardel Ketteler, poi Miranciuk a seguire Pasalic, quindi davvero giocatori che stanno fornendo davvero un grande contributo a livello di fanta calcio. Analizziamo poi i gol, i gol totali. Lukman e Kovminers sono a 7, poi abbiamo De Ketteler, Scamacca a 6, Ederson a 5, Pasalic, che ha segnato 3 gol, così come Zappacost e Miranciuk, 2 gol, Holm e Kolasinac, 1 gol. Anche qua, nelle prime 10 posizioni, abbiamo solamente due attaccanti, 5 centrocampisti e 3 difensori, quindi i nomi un po' si invertono, si cambiano, ma comunque la sostanza non cambia. Il contributo dell'attacco in questa top 10 è solo dato da due attaccanti. Analizziamo poi gli assist, vediamo se qua abbiamo qualcosa di diverso. Al primo posto abbiamo De Ketteler, 6 assist, poi De Rune 5, Ruggeri 4, Scalvini 3, con Miners, Miranciuk e Pasalic, con Lukman e Skamacca 3 bonus assist e Holm 1 assist. Anche qua, un po' la statistica ci prende un po' in giro, ma anche qua abbiamo solamente due attaccanti nella top 10, poi 5 centrocampisti e 3 difensori. Di fatto, i numeri si replicano, quindi vuol dire che il fattore bonus dell'Atalanta è predominante a livello di centrocampo, ben 5, quindi il 50% arriva dal contributo del centrocampo, il 30% della difesa e solo il 20% arriva dall'attacco, quindi un'informazione a tenere in grande considerazione. Ma noi come ci siamo mostri quest'estate a livello di fantacaccio? Abbiamo pagato gli attaccanti uguali ai centrocampisti, pur avendo la stessa fantamedia a voto e anche la stessa realizzazione di bonus, di assist e di gol? Assolutamente no. Infatti abbiamo avuto i prezzi medi pagati per quanto riguarda il fantacaccio. Ripeto, prezzi medi, ma sono un campione davvero enorme perché Fanta Lab ha tracciato più di 10.000 aste, quindi abbiamo un numero effettivamente reale e corrente. Abbiamo Lukman pagato il 12,5%, Scamacca pagato oltre il 20%, 20,2%, Comminers pagato solamente il 9,2%, addirittura De Keter al 5,2%, Miranciuk ha un prezzo base 0,4%, Pasalic un prezzo scontatissimo 2,9%, Ederson sotto il 2 1,8%, Holm 1,4%, Zappacosta che finiva da un'annata super l'annata scorsa, pagato il 5%, quest'anno sta deludendo, Derun 1%, Colasinac 2,8%, Scalvini 3,9% e Ruggeri 1,2%. In sostanza cosa notiamo? Che aver fatto magari una difesa completamente piena di giocatori talantini, Ad esempio un Holm più Scalvini più Ruggeri più Colasinac andavamo a spendere un prezzo davvero bassissimo Perché complessivamente non arrivavamo neanche al 10%, Perché, ripeto, Holm 1,4%, Colasinac 2,8% e fanno 4,20%, Scalvini 3,9% fanno 8,60% E Ruggeri 1,2% fa 9,80%, quindi neanche con il 10% arriviamo ad avere una ottima difesa Perché sono giocatori che rientrano tanto a livello di fantamedia brutto E poi un'altra stortura che notiamo è che il Combiners più Shard e Keter Complessivamente pagati il 14,4% non arrivavano neanche al totale del solo Scalvini 3,9% Pagato oltre il 20% E quindi attenzione massima perché gli assiomi che abbiamo notato in questi mesi, in questi anni Sono apparentemente confermati, quindi spendere tanto per l'attacco è una stortura che effettivamente non ci fa vincere il campionato Ad esempio, tra Scamacca e Combiners abbiamo Combiners che è una fantamedia brutto maggiore di Scamacca Ma Combiners abbiamo pagato l'11% in meno esatto rispetto a Scamacca Quindi attenzione perché questa è una grande stortura Però attenzione perché i prezzi non li facciamo noi, i prezzi li fa il mercato E quindi per quanto ci riguarda è importante, è interessante, è utilissimo andare a prendere gli affari in corso d'anno Quindi se voi avete la possibilità di fare un mega affare, quindi prendere una difesa davvero solida Ripetiamo che appunto i giocatori tarantini sono bravi sia in fase di media voto sia in fase di fantamedia voto Abbiamo anche la porta pagata pochissimo, che è la porta tarantina con Carmesecchi Con una fantamedia voto 5.71 quasi vicino al 6, una media voto di 6.29 Che ci ha permesso di avere un grande vantaggio a livello complessivo di modificatore di difesa E quindi è un sistema di gioco quello di Gasperini che preme tantissimo porta a difesa di centro campo A discapito dall'attacco, quindi anche a livello di fantacaccio è un sistema di gioco da premere in maniera assoluta Ripeto, i prezzi li fa il mercato, non li facciamo noi Chiaramente se dobbiamo poi spendere il nostro budget per l'attacco dobbiamo spendere in maniera oculata Chiaramente in questo caso il consiglio che potevo darvi, che vi ho dato, è quello di prendere tra i due giocatori Tra Lukman e Skamaka e il giocatore nigeriano Perché? Perché effettivamente poteva essere più utile, fruibile per il gioco di Gasperini Ma soprattutto si pagava un 8% in meno 8% che poteva permetterci di prendere un giocatore importante Ad esempio abbiamo parlato di Turam quest'estate, di Berardi quest'estate Non vuol dire che non si deve spendere per l'attacco Ma vuol dire che si deve spendere in maniera oculata I giocatori che fanno la differenza a fantaccio, a livello di fantamedia voto Sono pochissimi Uno è Lautaro, oggi forse c'è Vlaovic che sta contribuendo in maniera importante Il terzo è Giroud e Turam, ma se la giocano a pari passo Ma se Vlaovic e Lautaro vengono pagati oltre il 30% I giocatori come Giroud e Turam sono pagati a un prezzo assolutamente sostenibile Quindi il concetto mi sembra che sia abbastanza chiaro Il contributo che danno gli attaccanti non è così correlato a quello che è il prezzo di mercato Che paghiamo in fase d'asta Quindi dobbiamo essere davvero molto furbi Prendere gli affari tra porta, difesa e centrocampo E sfruttare comunque questi bei potenziali di avanzi e di budget che abbiamo Per puntelare al meglio il nostro attacco Io spero di aver fatto un grande servizio a tutti voi Vi abbraccio forte, vi auguro una buona giornata E buon fantaccio a tutti Ciao ragazzi